Dicevo, questo libro che mi ha avuto, è stato scritto da Anni Panetta di Guadriano Di Mello. Facciamo un applauso, sono presenti in sala, ecco qua. Ingegiamo gli autori di Assassin's Creed, conoscente e il nome di Assassin's Creed. Non è vero, 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 non è vero. Oh, ora, ah, allora ho fatto rire, non è vero, però però è vero. Si, lo efficace, lo trovato, si, lo ricevo. Possiamo приехare in ragione, lo anziani, sono statieri, sono statieri. Si, lo voglio, si, lo voglio, ma ci sono stati riferimenti, sono stati riferimenti, sono stati riferimentali, sono stati riferimenti, era parti, è vero, non è vero. Si, lo so, questoề è vero, non 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 è vero. che sei bloccato prendi gli occhi e ti faccio divertire vai si, si è ancora inordida si è ancora inordida ok, aspetta le primarci facendo le idee, prendi gli occhi punta, punta, dismissa destra, passa, 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 passa picchia per noi ci sarà stata per noi ci saranno per noi ci saranno per noi ci saranno come? Ragazzi, un minuto, eh? Ok, siamo arrivati a fare la gioca, ho finito.